Questi due massoni, guardateli bene, con il loro burattino, con il loro burattino che conduce la trasmissione, guardate, senti, ha stato spiazzato da questa brava giornalista russa, senti te, senti, rispondi scemo, rispondi scemo, non sanno rispondere, rispondi scemo, ti ha fatto una domanda semplice, scemo, scemo, gli ha fatto una domanda chiara, io sono ebrea, sono una giornalista russa, dov'è che tiri fuori che il patriarca di Mosca è antisemito, dammi, da antisemita, dammi una prova, non ha risposto, non ha risposto, ma ci rendiamo conto che ha fatto una domanda chiara, è questo, è questo massone che viene ospitato in Italia con i nostri soldi, è ben pagato, questo massone del nuovo ordine mondiale, avete sentito con le vostre orecchie, calcolate se qui dobbiamo pregare perché la salvezza verrà da est e al tempo, nel nome del padre, del figlio, del spirito santo, ci difenderanno i bambini, ci farà giustizia.